Ufficializzata la presentazione del calendario 2017-2018 di Serie B che si terrà a Bari il prossimo 3 agosto nel prestigioso scenario del Castello Svevo dopo che lo scorso anno si era tenuta presso il Teatro Bonci di Cesena. La scelta è stata presa in considerazione del valore della location, dell'adeguatezza degli spazi, della dotazione tecnologica ma anche in virtù dell'importanza di un territorio storicamente presente in Serie B con 50 stagioni all'attivo, si legge sul comunicato della Lega B. Buona parte del confronto è stata spesa sui criteri di ripartizione delle risorse economiche dopo la modifica della legge 225, legge Melandri, che individua precisi ambiti di destinazione dei ricavi provenienti dalla mutualità. L'Assemblea unanime si è orientata su un sostanziale equilibrio fa parte fissa e variabile, con quest'ultima che ha visto un incremento percentuale dedicato ai settori giovanili e infrastrutturali. Rimane inalterata la distribuzione delle cosiddette altre risorse a eccetto della Team Cup, rivisto anche il regolamento sul minutaggio che prevede maggiori introiti per le società che perdono giocatori a causa delle convocazioni nelle nazionali. Inoltrata la richiesta alla FIGC per l'allargamento delle panchine, fino a un massimo di 12 giocatori nell'elenco gara rispetto ai 7 della passata stagione.